Qualcuno l'ha definita una preghiera anarchica ed era quello che volevo rendere io in realtà, perché Madre Nostra è in contrapposizione un pochino a Cosa Nostra. Il documentario parla anche di terre confiscate alla mafia. Madre Nostra come ritorno a una sorta di religione ancestrale, il ritorno alla terra. Suona come l'inizio di una preghiera, Madre Nostra. Il documentario del giornalista e documentarista bitontino Lorenzo Scaraggi, che a bordo di un vecchio camper dell'82, il Vostok 100K, che lo accompagna ormai da anni nei suoi viaggi in giro per il mondo, ha incontrato diverse realtà. Ho sempre cercato in tutti i miei viaggi un significato profondo, non semplicemente spostarmi, ma muovermi, attraversare delle realtà che tutte le volte, che mi possano insegnare qualcosa. Ed è stato il caso di Madre Nostra. Ho attraversato delle cooperative sociali dove si usa l'agricoltura non solo in funzione dell'agricoltura. una masseria didattica, il trullo sociale a San Michele Salentino, o le terre confiscate alla mafia di Cerignola, Pietra di Scarto e quelle della fattoria dei primi, gestite da Semi di Vita, Angelo Santoro. Angelo Santoro che gestisce anche un orto sociale a Iapigia. E infine Spazio S, una cooperativa, una comunità terapeutica dove c'è gente che dovrebbe stare in galera e invece sta qui a disintossicarsi dalle sostanze stupefacenti. Particolare la storia di Angelo Santoro che da agente immobiliare ha deciso di cambiare la sua vita per dedicarsi agli ultimi e a breve si troverà a gestire ben 26 ettari a Valenzano di una terra confiscata alla mafia. Quando c'è la mafia la comunità si distrugge, quindi bisogna ritornare a ricostruirla. E in questo non c'è solamente il lavoro agricolo, ma c'è soprattutto il lavoro sociale. Cos'è stato per voi essere inseriti all'interno di questo documentario di Lorenzo? Sicuramente portare una verità molto importante, che dietro il lavoro sociale, di cui molti si profumano, in realtà c'è tanto lavoro, tanto coraggio e tanta speranza. Quindi è un lavoro importantissimo e spesso non emerge quello che si fa all'interno del territorio o delle cooperative stesse. Avete mai avuto paura di ritorsione? Beh, quella è una paura che c'è sempre, perché avendo beni confiscati c'è il dubbio. In realtà se si crea una comunità che sorregge il progetto, l'importante è chi ti sta accanto, non chi ti viene contro.